carissimi fratelli amici pace del signore buona giornata a tutti quanti voi grazie a dio perché siamo di nuovo insieme all'inizio di questo giorno sono le sette del mattino e leggiamo stamattina il capitolo 22 del libro degli atti anzi leggiamo dal verso 1 fino al verso 29 serveremo il verso 30 per domani perché è introduttivo del capitolo seguente capitolo che poi cominceremo a guardare domani mattina paolo ha chiesto di parlare al popolo e gli viene concesso e così inizia il suo discorso un discorso molto semplice paolo racconta la sua testimonianza quello che era prima di riconoscere il signore quello che poi è diventato una volta che ha incontrato il signore questo è qualcosa che caratterizza ogni vero cristiano c'è un momento in cui la vita è spaccata in due nel senso che quando si incontra il signore le cose cambiano c'è un cantico che lo dice la vita cambia quando entra gesù cambia perché la grazia di dio ci rende delle persone nuove delle persone diverse da quello che eravamo prima la rabbia l'odio il rancore e tutti gli aspetti negativi dell'essere umane vengono sostituiti da nuovi sentimenti da nuovi atteggiamenti che sono frutti della di quell'opera che il signore inizia in coloro che si pentono e si ravvedono dei loro peccati c'è un prima e c'è un dopo se dunque uno è in cristo egli è una nuova creatura dirà paolo le cose vecchie sono passate tutto è diventato nuovo e se paolo prima infatti era un persecutore della chiesa dopo diventa un predicatore dell'evangelo e viene perseguitato da coloro che ancora non avevano conoscenza della grazia di dio e avviene quindi che quando una persona si converte la sua vita diventa nuova diventa diversa e questo viene notato da coloro che sono intorno viene notato perché la grazia di dio è qualcosa che non passa inosservata testimonia dunque paolo testimonia della propria esperienza quello a cui noi cristiani siamo chiamati a fare questo ancora oggi testimoniare della nostra esperienza e raccontarla con franchezza perché non c'è da vergognarsi di essere cristiani non c'è da vergognarsi di raccontare quello che il signore ha fatto per noi anzi dobbiamo essere grati a dio se egli ha fatto un'opera nella nostra vita e forse chi ci sta davanti ha bisogno di sapere che dio può cambiare ancora oggi le vite forse che ci sta davanti ha bisogno di sapere la nostra esperienza perché magari si trova in situazioni simili alle nostre e quella parola quella testimonianza per quanto semplice possa essere potrebbe dare occasione a chi ci sta davanti di dare a sua volta una svolta alla propria vita non dobbiamo vergognarci assolutamente perché se gli uomini non si vergognano di raccontare storie delle volte non sempre edificanti quanto più noi non ci dobbiamo vergognare di raccontare la più bella storia che ci sia la storia di gesù il figlio di dio la seconda persona delle trinità che si è fatto uomo e che ha affrontato la croce la morte per la nostra salvezza dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna se gli uomini non si vergognano e non hanno remore nel bestemmiare in nome di dio quanto più noi non dobbiamo avere né vergogna né remore di nel glorificare il nome di dio e nel dire che il signore è grande che il signore è potente perché magari chi è davanti a noi ha bisogno di saperlo perché sta vivendo una situazione talmente difficile che magari ha perso proprio la speranza o forse ha in cuore maturato l'idea di non farcela più e che quindi magari sarebbe meglio morire forse ha bisogno di sapere che invece dio può fare quello che è l'uomo impossibile e che può fare al di là di quello che noi domandiamo pensiamo se le persone non hanno difficoltà ad allontanarsi da dio quanto più noi non possiamo fare a meno di dire che dal giorno che ci siamo avvicinati a dio noi abbiamo realizzato qualcosa di grande di glorioso e non possiamo tacere di queste cose belle perché faremo un torto al signore faremo un torto anche agli altri in quanto gli negheremmo la possibilità di conoscere l'unica via che porta alla salvezza sì la testimonianza è qualcosa di importante è qualcosa a cui ognuno di noi è chiamato ed è qualcosa che può cambiare la vita di chi è intorno a noi ora paolo considerate che sapeva bene che parlando di gesù non avrebbe salvato la propria pelle non avrebbe incontrato il consenso di chi gli stava intorno ma lui non era interessato a questo lui aveva la speranza certo che chi lo stava ad ascoltare si convertisse al signore o forse aveva la speranza che almeno qualcuno potesse donare la sua vita a dio e noi dobbiamo annunziare testimoniare proprio con questa speranza che qualcuno che magari tutti quelli che ci ascoltano possono accettare la grazia nella loro vita e non dobbiamo preoccuparci di quelle che sono le conseguenze della nostra testimonianza come paolo non se ne preoccupò paolo sapeva bene probabilmente ciò che stava per accadere però aveva deciso di essere pronto a vivere e a morire per il signore e forse io a te non siamo chiamati oggi a morire per il signore nel senso che se testimoniamo è difficile che ci sia qualcuno che ci possa far andare in prigione per questo almeno nella nostra nazione in italia però anche vero che delle volte veniamo allontanati magari delle volte veniamo messi in disparte perché siamo quelli che parlano di dio che ci importa a noi importa che siamo approvati apprezzati da parte del signore innanzitutto e poi se anche il mondo non ci dovesse accettare ricordiamoci abbiamo i fratelli le sorelle la nostra famiglia nella quale troveremo sempre conforto consolazione perciò coraggio fratelli e sorelle testimoniamo della grazia di dio non vergogniamoci e non abbiamo paura di quello che può succedere perché dio è quello che continuerà a prendersi cura di noi e non permetterà che nulla di male possa accadere alla nostra vita oggi l'invito ciò che voglio fare a me e a tutti quanti noi chiediamo al signore che ci dì occasione di testimoniare di lui e preghiamo che quanti ascolteranno possono accettare la grazia di dio nella loro vita pace del signore dio ci benedica insieme